Così non si può andare avanti, siamo al collasso. È il grido d'allarme lanciato da Mario Bracci, presidente provinciale della FISM, la sigla che rappresenta le scuole paritarie in provincia di Arezzo. Le nostre 34 scuole costituiscono tante piccole e medie imprese sociali che offrono alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie un ampio ventaglio di servizi. Ma nessun tipo di impresa è in grado di sopravvivere senza certezza di bilancio o con i dati di bilancio che vengono modificati o azzerati in corso d'anno. I contributi statali effettivamente ricevuti dalle scuole paritarie a retine sono appena 800 euro l'ordia sezione. Si tratta di circa 32 euro a bambino. Finanziamenti attesi dall'anno scolastico 2013-2014 e ricevuti soltanto ora dalle scuole, in maniera ben inferiore a quanto già messo a bilancio. Degli oltre 9 milioni e 200 mila euro destinati dal governo alle paritarie in Toscana sono stati effettivamente versati soltanto 1 milione e 400 mila euro. Una situazione dovuta a intoppi e problemi burocratici che è stata anche al centro di un'interrogazione alla Giunta regionale da parte dei consiglieri De Robertis e Mugnai. Un'incertezza che metta a serio rischio il futuro delle scuole paritarie. A fronte di questi dati, denuncia Bracci, si fa da più parti un gran parlare di finanziamenti alle scuole private e se ne fa pure oggetto di dibattito e confronto politico. Ma dove sono questi finanziamenti? Di quale universo parallelo si parla? In questo quadro si fa appello, continua il presidente della FISMA ancora una volta, alle forze politiche, ai rappresentanti del nostro territorio e nelle diverse sedi istituzionali, a chi ha responsabilità pubbliche perché l'attuale situazione venga prontamente superata e sbloccata.